Oggi parliamo di Maria Gaetan Agnesi e di Laura Bassi, ma in primo luogo devo ringraziare Book City, Milano, il comune di Milano, l'Università degli Studi di Milano per averci ospitato per questo evento. Ringrazio subito Sofia Rugati, che è la nostra studentessa, una nostra studentessa che è una volontaria che appunto ci aiuterà a non fare troppi pasticci, in primo luogo con Zoom, e raccoglierà le domande del pubblico. Devo ringraziare i due relatori, che sono appunto Paola Govoni, che insegna presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, ed è una studiosa di storia della scienza, della comunicazione scientifica, autrice di un libro intitolato appunto Un pubblico per la scienza, la divulgazione scientifica nell'Italia in formazione, di un altro libro che è sempre sul mio tavolo, che io ho un interesse per la storiografia della scienza, è un libretto intitolato Che cos'è la storia della scienza? Edito da Carocci, che è un'introduzione alla nostra disciplina. Si occupa di questioni di genere, di rapporti fra donne e scienza, anche in ambito contemporaneo. Quindi grazie Paola per essere interventa. Grazie. Massimo Mazzotti, professore di storia della scienza, o di storia, forse sei professore di storia Massimo, tu a Berkeley. Sì, noi siamo tutti professori di storia. Sei professore di storia a Berkeley. Che bello. E direttore del centro per la scienza, la tecnologia, la medicina e la società in quella università appunto. È un sociologo della scienza che lavora sulla storia della matematica. E quindi quello che trovo affascinante nel lavoro di Massimo, che appunto, diciamo se posso un po' semplificare, Massimo, si può in un contesto sociale, culturale, in certo senso instabile, contingente, quella disciplina che noi riteniamo eterna e quasi distaccata dal mondo. Ecco, quindi è autore di vari libri e uno di questi sarà oggetto del nostro incontro. Voglio ricordare una recente storia della scienza, The History of Science, Critical Concepts in Historical Studies, editata da Routledge nel 2020, in quattro volumi. ricordo con Giuliano Pancaldi un libro appunto intitolato In Pure Culture, Interfacing Science, Technology and Humanities e poi recentemente è stato curatore di Knowledge as a Social Order, Rethinking the Sociology of Barry Barnes, quindi è un lavoro di sociologia della scienza. Ma noi oggi siamo qui per presentare due libri e io provo adesso a condividere lo schermo. Siamo qui per parlare di questi due libri. Un libro, lo vedete sulla destra, è un libro di Marta Cavazza, una veramente eccellente storica della scienza, del newtonianismo, della ricezione del newtonianismo nel Settecento, in particolare in ambiente italiano, in particolare nell'ambiente bolognese. Marta ha insegnato per molti anni appunto a Bologna e il suo libro è Laura Bassi, Donne, Genere e Scienza nell'Italia del Settecento, edito da editrice bibliografica 2020. Marta per ragioni di salute non è potuta intervenire, ma abbiamo con noi Paola che è un po' il, diciamo, colei che ha avuto la felice intuizione di raccogliere dei saggi sparsi per riviste e volumi di Marta. È stato un lavoro di intelligente, diciamo, curatela che ci consente di rileggere questi scritti di Marta Cavazza e leggerli proprio come un libro coerente dedicato a questa grande scienziata bolognese. Massimo Mazzotti, quindi, il libro era su Gaetano Agnesi, è questo qui, Maria Gaetano Agnesi e il suo mondo, una vita tra scienza e carità, era già uscito in inglese per John Hopkins University Press nel 2007 e ora è stato tradotto da Carocci. Questo è, direi, quello che volevo appunto dire e vorrei appunto lasciare adesso la parola ai due relatori. Comincerei da Massimo, chiedendo a Massimo così una domanda. La prima domanda è chi è Maria Gaetano Agnesi? Ci puoi dare, diciamo, qualche prima informazione, un'immagine, ecco, di questa matematica italiana. Sì, grazie Nicolò per la presentazione. Lasciami dire, iniziando, che mi fa molto piacere vedere un libro di Marta Cavazza sulle donne apparire in questo momento che raccolga i suoi studi degli ultimi decenni, infatti, perché Marta è stata la pioniera di questo genere di studi e tutti quelli che oggi si occupano di queste cose hanno un debito ineludibile con il suo lavoro e con la sua intelligenza. Quindi è un enorme onore avere il mio libro affiancato al suo in questa situazione. Detto questo, chi è Agnesi? Diciamo che Agnesi è stata per lungo tempo, e forse ancora lo è in realtà, un enigma, proprio nel senso che uno storico del tardo ottocento la definisce un enigma psicologico, perché resiste le interpretazioni. È una figura di cui si sa piuttosto poco come molte di queste donne studiose non è stata al centro dell'attenzione degli storici e quindi i materiali relativi al suo lavoro solo molto parzialmente sono sopravvissuti. E quando appunto l'attenzione si è alzata nei confronti delle donne scienziate del Settecento, diciamo era tardi per recuperare molti dei beni materiali che avevano a che fare con la loro attività e la loro vita. Quindi in parte questo è causa del problema dell'oscurità, di alcune di queste figure di cui abbiamo un nome, magari un libro, però molto poco per quanto riguarda il contesto in cui operavano. In particolare Agnesi è complicata, è stata vista come complicata dagli storici perché ha una sorta di biografia sdoppiata e posso darti un senso raccontandoti semplicemente la mia esperienza di come io l'ho incontrata essendo milanese ed essendo cresciuto non lontano da dove lei viveva e operava poi nel corso della sua vita, a me capitava, era capitato da bambino di sapere qualcosa di Agnesi perché la chiesa di San Nazaro aveva dei librettini su Agnesi in quanto donna che aveva fatto carità a Milano, in quanto donna non certamente santa ma in odore di santità, una figura che comunque a cui si poteva indirizzare una preghiera per così dire, in qualche maniera era una era una cosa un po' locale che però esisteva come devozione un po' locale. Questo quindi nelle mie nebbie della mia infanzia. Poi in realtà studiando matematica e studiando i primi libri di calcolo, di calcolo infinitesimale, che sono appunto del 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 settecento in Italia, stiamo parlando della metà del settecento, prima metà del settecento, e mi sono imbattuto nel nel libro di questa donna, Maria Gaetana Agnesi, autrice del della prima sistematizzazione del calcolo infinitesimale integrale in Italia. E per me ci ha voluto un po' capire che era la stessa persona, perché in realtà le due biografie hanno avuto una vita completamente sdoppiata. Da una parte l'eroina cattolica, che poi diventerà una protagonista del mondo caritatevole a Milano, e infatti la direttrice del più albergo tributio, che a quei tempi è in partenza, viene proprio creato negli anni settanta, e lei dirige la parte femminile. Quindi questa è la figura pubblica di Agnesi, che poi rimane un po' in quella tradizione cattolico progressista di Milano. E invece la storia della matematica è un po' un'altra cosa, c'è questa figura un po' isolata di questa donna che però scrive questo trattato di alto livello, che viene tradotto in francese e in inglese, che anche Lagrange, un grande matematico della fine del Settecento, raccomanda a chi gli chiede qualcosa per avvicinarsi al calcolo, quindi un qualcosa che è percepito come molto ben organizzato, molto ben sistematizzato, e che offre, vabbè poi posso dire qualcosa in più sul libro, però offre un linguaggio, un linguaggio in italiano, perché fino a quel momento chi scrive di calcolo in Italia o scrive in latino, o si occupa di cose molto specifiche, ma non c'è la preoccupazione di unificare questo campo per poi avere un momento anche pedagogico più ampio. Sì, questa osservazione è molto interessante, effettivamente il lessico scientifico, cioè quando uno guarda le lettere di Leibniz a Bodenhausen, che era l'ambasciatore, si scrivono in tedesco i due, ma quando devono parlare di termini matematici usano il latino, cioè non hanno un lessico, siamo però alla fine del Seicento. Qui è un contributo già questo importante dell'Agnese, non è banale scrivere un trattato di calcolo infinitesimale, cioè noi oggi pensiamo il professore di analisi ha scritto il manuale, sembra una cosa banale, ma all'epoca voleva dire fare qualcosa di estremamente creativo, trovare, diciamo, articoli sparsi dappertutto, metterli assieme e intanto capirli, perché era una teoria avanzatissima sostanzialmente. Siamo alle ultime, alle frontiere della scienza, no? In quel momento, come in calcolo. E poi, come dici tu, lei, diciamo, quello da cui parte è un'esistenza di svariati materiali, però sparsi nei giornali specializzati in diverse lingue. E allora, se qualcuno le chiede come studiare il calcolo, non c'è un testo che lei può dare, quindi decide lei stessa di creare questo testo e che implica, tra l'altro, inventare molte parole che non esistono. E anche insegnare ai tipografi a usare i simboli del calcolo, perché a Milano nessuno ha mai stappato un libro con i simboli del calcolo, che poi sono quelli, nel caso di Agnesi, i leibniziani, no? E quindi lei deve supervisionare molto strettamente anche i tipografi, perché si tratta di creare delle convenzioni anche tipografiche. Se non sbaglio aveva la tipografia in casa, aveva una tipografia... Per questo momento, per questo motivo, lo stampatore Richini manda una stampatrice a casa sua, perché almeno lei può stare, come è conveniente ad una signora, a casa sua e dirigere il lavoro degli stampatori. Keplero andava sempre in giro con i piombi, andava sempre in giro con i Keplero. Sono cose che a noi non sembrano problematiche, ma che in realtà al tempo sono grandemente problematiche, proprio la comunicazione di queste nuove conoscenze. Quindi, ecco, questa è una prima questione che segnalo, come la strana biografia sdoppiata, come poter cercare di rimetterla insieme, questa è stata una delle cose che mi hanno portato anche a scrivere il libro. E poi ci sono altre domande a cui poi ho cercato di dare risposta, come ad esempio, come è possibile che una donna in questo momento possa essere presa seriamente come matematica, dato che, come si sa, è un periodo in cui le donne non possono entrare in un'università normalmente e prendere una laurea. E quindi una figura femminile che pubblica un libro di matematica e viene riconosciuta come credibile. Ecco, la questione della credibilità è interessante. Come mai gli viene attribuita questa credibilità? Quello l'ho trovata fin dall'inizio è una questione molto interessante, perché è in contraddizione con tante altre cose che noi sappiamo del Settecento, no? Anche se è il periodo dell'illuminismo, ma le donne sono comunque sistematicamente escluse da queste forme di conoscenza sublime, come avrebbero detto al tempo. E quindi c'è un dibattito sulla legittimità della donna nel operare in questi campi che trovo interessante. E poi la, diciamo, l'eredità del libro, un po' sulle linee di quello che stavamo dicendo, è un libro che definisce un momento nella storia della matematica, nella storia della scienza italiana e che appunto va a sistematizzare, a dare forma a un sapere in emergenza, anche se in quel momento nessuno a Milano sta insegnando calcolo. Lei in realtà è una delle prime due, tre persone che diventano esperti di calcolo in quel momento a Milano. In Italia c'è già qualcuno tra la Toscana e Venezia, però diciamo lei a Milano è una delle prime donne. C'è un monaco benedettino che arriva a Milano negli anni 40 e lavora con lei e sono praticamente i due che sanno di calcolo a Milano in quella situazione. Ci sono vari motivi poi per cui lei si appassiona di matematica, se vuoi poi li possiamo vedere un po' meglio. Ti do solo una citazione che questo è un periodo di grande subbuglio militare sociale in Lombardia, anche nel nord Italia più in generale, c'è la guerra di successione spagnola e austriaca e lei a Milano è occupata un paio di volte nel corso di pochi anni, occupata militarmente e lei scrive nell'introduzione al suo libro che nella matematica regna la pace. Quindi c'è questa sorta di la matematica è il mondo dove a lei piace vivere, piace andare a contemplare questo mondo di pace. Questo è un primo indizio su cosa la attira in quella direzione. Certo, grazie Massimo. Faccio una notazione così proprio un po' non molto profonda, ma siamo fra la la chiesa di San Nazaro e Celso, l'antica Basilica Ambrosiana, il palazzo Agnesi, come mi ha insegnato Massimo durante una passeggiata che abbiamo fatto per Milano, si trovava in Via Pantano, quindi siamo, lo dico forse agli studenti, alcuni studenti che ci stanno seguendo, stiamo parlando di cose, insomma abbiamo il privilegio qui in Italia di calpestare insomma delle pietre che ci parlano di questi, diciamo, nostri predecessori. Ti posso dire per gli studenti e chi vive a Milano che Palazzo Agnesi era dove c'è l'Asso Lombarda, su Via Largo. Sì, sì, grazie Massimo. Paola, tu ci parli da una città che è altrettanto ricca di ricordi, di ricordi dell'Accademia e dell'Istituto delle Scienze, eccetera, e vogliamo invece una prima presentazione di Laura Bassi. Chi era Laura Bassi? Certo, grazie Nicolò. Anch'io però prima di dirvi così molto in sintesi chi era questa donna e perché ancora oggi secondo me è interessante parlarne, vorrei ringraziarvi, ringraziarvi per invito e sono anch'io molto felice di essere qui a presentare insieme al libro di Marta che è stata ed è certamente una studiosa molto importante non solo per gli studi su genere donne, genere scienza, ma anche proprio per la storia istituzionale, cioè con gli studi di Marta credo che sia stato possibile riscrivere interi capitoli di storia della scienza di Bologna che in un certo periodo ha avuto così degli episodi decisamente interessanti come spero di riuscire almeno a così a richiamare. Questa è una festa dei libri, quindi se permettete io sono intanto contenta di far vedere il libro di Massimo che finalmente è stato tradotto e mi pare anche bene, c'è spesso il problema della traduzione, qui mi sembra un buon lavoro anche da questo punto di vista. Quest'anno tra il novembre del 2019 e il novembre 2020 è un'ottima annata per la storia delle donne nella scienza, di recente è stato tradotto anche finalmente il libro di Lebekah Messbarger su Anna Morandi Manzolini che è un'altra figura molto importante nella storia della scienza del Settecento, anche questa a Bologna, una donna che ha lavorato a Bologna, anche lei ha avuto un ruolo istituzionale retribuito, ora vi dirò le ragioni per cui resta unico questo caso bolognese e c'è anche un altro libro che secondo me è molto bello e interessante, questo di Federica Favino, che racconta invece il periodo immediatamente successivo, cioè l'Italia preunitaria, forse qualcosa c'è tra l'unità e il primo novecento, diciamo che c'era questo buco che invece è stato colmato attraverso questa biografia in contesto di queste due studiose, che è molto interessante, quindi speriamo che sull'onda di questi studi che, come diceva prima Nicolò, non sono solamente, come dire, un recupero di figure certamente interessanti, ma sono anche un modo per rileggere degli episodi che, attraverso queste figure particolari, per le ragioni che diceva Massimo, cioè le donne erano escluse dalle istituzioni, dall'educazione, consentono di osservare tanti fenomeni da punti di vista inusuali e quindi hanno consentito veramente, secondo me, di ripensare momenti interessanti. Quindi io sono molto grata amata per questa collaborazione dalla quale ho imparato moltissimo. Chi era Laura Bassi? Beh, Laura Bassi credo che, anzi senza credo, sicuramente possiamo continuare a dire che è la prima donna che è stata docente in una università in Europa. Era una giovane di origini medio borghesi, diciamo, figlia di un avvocato, quindi non apparteneva a quell'alta borghesia o alla nobiltà che spesso apriva così qualche spiraglio alle donne. La sua vicenda è del tutto particolare, pare che sia stata notata da questo medico che era un docente dello studio, un docente universitario che stava curando la madre, si accorge di questa ragazzina che legge con passione, che studia e nasce l'idea di offrirle un'educazione in casa, perché la ritiratezza era naturalmente una delle virtù che le donne non potevano assolutamente trascurare, di preparare questa ragazza. Si sparge un po' la notizia in città, la notizia che c'è questa ragazza particolare arriva alle orecchie di Lambertini, Prospero Lambertini, cardinale, che poi diventerà papa nel 1740, quando Prospero arriva in città nel 1731, ha la grande alzata di ingegno, diciamo così, pensa di attirare l'attenzione su una città che era in una crisi non solo economica, ma anche istituzionale, sociale e culturale, come ovvio, anche non solo attraverso i suoi importanti investimenti nell'Istituto delle Scienze, nuove collezioni di strumenti scientifici, ma anche attraverso, come dire, il sostegno a questa ragazza la quale pensa di dare una laurea e una cattedra. Quello che diceva prima Massimo su queste due agnesi mi ha fatto venire in mente che occupandomi di Bassi, come dicevo, mi occupo di storia della scienza contemporanea, anzi sempre più recente. Mi sono accorta che forse qualche cosa del genere è accaduto un po' anche per Bassi, cioè dal 1732, Prospero arriva in città nel 31 e in un anno preparano questa ragazza a questo evento lungo un anno, sul quale poi vi mostrerò alcune immagini perché sono secondo me molto interessanti. dal 1732 fino agli anni 60 sono state pubblicate una quantità di biografie, di profili bioeratici impressionanti di Laura Bassi. Marta Cavazza ha scritto un articolo sulle biografie di Bassi e solamente nel 1960, in occasione di un centenario, non so se era un centenario in ogni caso di un anniversario della scuola locale magistrale bolognese dedicata a Laura Bassi, uno studioso di letteratura, Elio Melli, ha recuperato la corrispondenza di Bassi, cioè il corpo più importante tuttora della corrispondenza di Bassi è pubblicato in un volume dedicato alle scuole magistrali bolognesi Laura Bassi e questo signore ha delle frasi di grande acutezza storiografica, dice ma noi conoscevamo tutte queste biografie assolutamente eroicizzanti o quasi appunto santificanti di questa persona e da questa corrispondenza ne viene fuori una persona completamente diversa, cioè una persona reale, una professionista, una donna che ha veramente gestito una carriera, non usa naturalmente questi termini. Il termine carriera lo usa Paula Findlen che è un'altra delle studiose molto importanti nel recupero non solo della figura di Bassi ma anche di altre donne che in questo periodo sono riuscite a entrare nelle istituzioni perché la cosa che resta unica del caso Bassi e del caso bolognese è che queste donne, Laura Bassi, Anna Morandi Manzolini che prima vi ho mostrato, Clotilde Tambroni e in certa qual misura anche Maria delle Donne che è una donna che si riesce a laureare nel 1799, hanno avuto dei ruoli istituzionali riconosciuti. Questa è, come dire, è una, la grande novità e unicità del caso bolognese. Quindi il prospero Lambertini nel 31 torna a Bologna, una città che amava moltissimo, era naturalmente una persona di grande intelligenza con ambizioni culturali particolari, direi, poi forse su questo Massimo ci dirà qualche cosa di più di quello che sono in grado di dire io. Anche su questa figura c'è un libro molto importante curato da Rebecca Messbarger al quale credo anche tu Massimo hai collaborato e che ha, come dire, ridato a questa figura l'importanza che ha non solamente in ambito religioso ma proprio politico perché Lambertini è un politico. Quindi si decide di lanciare, come diremmo oggi, con termini contemporanei, questo caso mediatico nel tentativo di attirare l'attenzione su una città che aveva dei grossi problemi dal punto di vista economico dopo che la grande economia dell'industria della seta era entrata in crisi con naturalmente la rivoluzione industriale inglese. Bologna aveva goduto di questa ricchezza dal 300, dal 400 grazie alla messa a punto di questo mulino da seta particolare che consentiva di produrre questo organizzino che aveva reso la città ricca. Naturalmente è una monocultura diciamo per cui quando l'Inghilterra parte con lo suo grande sviluppo economico naturalmente Bologna entra in crisi quindi forse dobbiamo un po' contestualizzare il caso di Bassi in una situazione dove si sta cercando di rilanciare l'istituto delle scienze, di rilanciare lo studio che è in crisi, è uno studio che propone un sapere molto tradizionale, non rinnovato. Infatti una delle ragioni per cui Bassi ha un ruolo dignitoso nella storia della scienza è perché una delle figure che hanno importato diciamo la fisica newtoniana, Marta ha pubblicato su questo anche in un libro dove siete entrambi, le quale abbiamo corretto insieme con Marta Lebozze credo non tardi di un anno fa se non ricordo male. 1732 si decide che la ragazza è pronta e si organizzano una serie di cerimonie che sono dal mio punto di vista di contemporaneità di contemporaneità diciamo veramente impressionanti anche per quanto concetto e l'igolografia che le racconta. Non so se Nicolò posso prendermi ancora un minuto e ve le mostro. sono sono intanto queste due immagini ufficiali diciamo. Questo ritratto è un'incisione di Mattioli su questo disegno di Fratta ed è pubblicato nelle tesi di Bassi. Discute le sue tesi nella primavera, sono 49 se non ricordo male, vengono immediatamente pubblicate e si affianca al frontespizio questo suo ritratto. Negli stessi mesi si conia questa medaglia. Questa è quella del Museo archeologico che è in argento che a me sembra, non sono un'esperta assolutamente, forse anzi certamente voi lo siete più di me, però a me pare decisamente interessante. C'è questo profilo di ragazza che guarda lontano, questi capelli quasi che si muovono e certamente si vuole dare un'immagine molto così, molto formale. Qui è in ermellino infatti, nell'incisione. Però c'è anche l'idea di, come dire, di dimostrare la freschezza di questa figura che viene presentata come in inerva. Qui vi ho messo alcune delle frasi che circolavano in città che Marta ha trovato nelle corrispondenze o nelle testimonianze sui giornali, un mostro in filosofia, meraviglia del suo sesso. Perché uno dei punti sui quali tutti coloro che sostengono Bassi, a partire da Lambertini e certamente il Senato che poi appoggia l'operazione, insistono sul fatto che qui si tratta di un'eccezione. Cioè non dobbiamo pensare che perché Bassi e qualche altra donna a Bologna riesce a imporsi, questo apre la strada ad altre donne. Paola, scusa se ti interrompo. No, no, devi interrompo. Queste immagini sono quindi immagini che celebrano questa serie di eventi che avvengono nel 32 in cui la Bassi, per interesse di Lambertini, ma evidentemente non solo, c'è il Senato accademico, insomma la città appoggia questa sua, diciamo, questa sua iniziativa, decide di fare questa cosa incredibile, fare entrare una donna nell'Università di Bologna conferendo a questa donna una laurea e poi una cattedra straordinaria, no? Di filosofia universa, se ben ricordo. Sì. Quindi la Bassi ha modo in famiglia di formarsi una educazione scientifica che viene notata da un professore. Lambertini arriva, è favorevole all'educazione delle donne e avviene questa cosa. Di alcune donne, di poche donne. Di alcuni mostri. Di alcuni mostri. Ecco, e avviene questo fatto. Quindi nel 32 abbiamo appunto, come ci stai raccontando, una celebrazione pubblica. La città, la città che ci definisci come un po' stremata economicamente, trova modo di, diciamo, fare qualcosa che ridà a Bologna una, diciamo, una priorità, una dignità e una qualcosa di... Ecco, Bassi, poi come vedremo, come ci spiegherai, poi in verità non è un mostro, è una vera scienziata, è una scienziata che è una persona che poi con grande, un po' come Agnesi, che scrive un trattato di calcolo, che nel secondo volume è un trattato di calcolo differenziale integrale, è un po' come scrivere nel 1920 un trattato di relatività generale, vuol dire essere, insomma, sul pezzo, insomma. La Bassi, come vedremo, troverà modo di non essere solo uno spettacolo, ma di fare molto di più, di essere una scienziata che avrà degli allievi e che condurrà delle esperienze, avrà un programma di ricerca originale, eccetera, eccetera. Quindi questa è un pochino, queste immagini ci parlano appunto di questa celebrazione. Sì, Marta e anche Paula Findlen raccontano di questa città invasa da una folla che si apre per far passare il corteo della giovane che viene accompagnata da altre donne. Qui ci sono una serie, ve le mostro solo rapidamente, queste sono le insignia degli anziani, sono queste specie di newsletter, diciamo, delle gazzette della città che ogni due mesi raccontavano gli episodi più salienti dei due mesi precedenti. Nel corso del 32 a Bassi ne vengono dedicate tre, questa è quella della discussione delle tesi filosofiche, lì c'è lei piccina che discute le sue tesi, questa è la proclamazione, dopo la proclamazione il 27 che avviene nel maggio, nel giugno discute altre tesi che sono quelle che le consentono di avere la cattedra, in ottobre le viene ufficialmente attribuito uno stipendio di 500 lire che non so francamente se fosse molto poco, credo poco perché Marta racconta di come ci siano spesso sue richieste poi negli anni successivi per aumenti di stipendio perché non riusciva lei poi con il marito a comprare. Però delusione delle delusioni non può insegnare. Non può insegnare per ragione, esatto, per ragione del suo sesso c'è questo vincolo sul quale si è insistito molto, questa è l'ultima sempre del 32, era solo per farvi vedere che è davvero eccezionale, cioè si costruisce un caso che attira l'attenzione infatti anche dei giornali internazionali. Sì, è vero, il vincolo è che perché è una donna potrà insegnare solo a casa, però è anche vero che come sappiamo e fino a 800 inoltrato i docenti all'università spesso insegnavano a casa perché era a casa, che poi avevano i loro strumenti, avevano il loro laboratorio ed è vero comunque che Bassi farà una battaglia che durerà decenni e sarà equiparata da tutti i punti di vista ai suoi colleghi solamente nel 1776, cioè due anni prima di morire. Però comunque avrà accesso all'accademia, diventerà membro di tutte le accademie cittadine, lei e altre donne e ecco nel caso di Bassi c'è il problema delle pubblicazioni, ma poi magari di questo parliamo dopo. Chiudo questa prima fase con un omaggio a Prospero Lambertini che naturalmente è il suo mentore ed è una persona di grande intelligenza che non solo sosterrà questa iniziale, diciamo, fase della vicenda, cioè difendendo Laura Bassi da un senato che come ovvio da una città che era molto titubante anche perché questo non era il primo caso, c'erano, chiudo con questo, dicendo che l'intelligenza politica di Lambertini sta nell'avere presentato alla città il caso di Bassi come a beneficio della città e non a beneficio di un casato o di un padre, come forse accade, ma su questo ci dirà Massimo, nel caso di Agnesi, nel caso di Elena Cornaro Piscopia, che è la prima laureata in assoluto alla fine del Seicento e come si era già tentato qualche anno prima di fare con Maria Vittoria del Finidosi. Maria Vittoria c'ha un manoscritto bellissimo dove offre le sue tesi alla regina di Spagna ma poi non le concedettero la laurea perché fu ritenuto un atto di audacia del padre inaccettabile per cui la tesi non le fu data, era una tesi in giurisprudenza e quindi Prospero dice no, qui siamo, come dire, su un altro piano e presenta la laurea di Bassi e la sua cattedra come a onore della città. Su questo Marta ha delle parti molto interessanti nel suo libro. Grazie Paola, grazie. Qui abbiamo, diciamo, abbiamo aperto, abbiamo cominciato ad aprire gli archivi, abbiamo visto delle immagini veramente interessantissime che ci parlano di un mondo in cui le donne vengono celebrate come filosofesse, in cui un papa, un cardinale, poi un papa è amico della scienza e appoggia non solo Bassi ma come vedremo Magnesi. Cosa sta succedendo? Io ho già un po' di mal di testa qui, sono abituato a pensare all'illuminismo come un periodo in cui queste cose non possono succedere. Com'è possibile che nell'Italia cattolica, nella Bologna, nello Stato della Chiesa, nella Milano conservatrice, anche dunque un cattolicesimo conservatrice, che l'Agnesi non rinnega affatto, fra l'altro, com'è possibile che avvenga questo fenomeno? Tu, Massimo, hai appunto utilizzato in termine il cattolicesimo illuminato, hai utilizzato questa categoria. Mi spieghi cosa sta succedendo, insomma? No, molto commentieri. Faccio un piccolissimo inciso che mi ha ispirato Paola facendo vedere le immagini di Laura Bassi, perché pensavo alla differenza sul fatto che per Agnesi non c'è praticamente nulla di simile a livello visivo, proprio di immagini, di rappresentazioni. C'è un'immagine del salon di casa Agnesi, ma è ottocentesca, è una ricostruzione fantasiosa. E quindi anche la questione documentaria, no? Cioè come noi riusciamo a ricostruire queste storie? Perché nel caso di Agnesi, quello che potrei far vedere sarebbero degli assai poco entusiasmanti documenti di tipo economico o giuridico, perché è da quelli che sono arrivato a ricostruire cosa succedeva a Palazzo Agnesi, no? Quali erano le spese? Cioè ci sono dei bei rotoli di documenti all'archivio di Stato di Milano che mi hanno aiutato tantissimo, perché altrimenti era praticamente una sorta di cecità storiografica, no? Per quello che riguardava la vita quotidiana o come era organizzata questa famiglia. E quindi in questo caso invece è tramite questi documenti, tanto che il palazzo stesso poi viene distrutto durante la guerra e sparisce un po' tutto. E quindi niente, una questione anche delle fonti, no? Dove andiamo a recuperare le fonti per figure che sono state a lungo sminuite, diciamo, nella storia? Ti interrompo, ti interrompo per dire, look where the money goes. Esatto, e dove vanno i tribunali? Perché ci sono anche delle cause fatte contro il padre di Agnesi perché aveva i debiti e da quelle sono arrivato a capire quali erano un po' le sue strategie di spesa. Il che si collega alla tua domanda, perché tu mi chiedevi un po' sul contesto che permette, nel caso specifico di Agnesi, questo emergere di questa figura con il beneplacito delle elite locali, evidentemente, perché altrimenti non succederebbe, il libro non sarebbe pubblicato da Ricchini, che è lo stampatore dell'arcivescovo di Milano. E allora è connesso perché quello che mi è parso è che il padre stesse investendo molto nella visibilità del suo palazzo, della sua piccola corte che si era costruito, essendo un uomo ricco, un uomo che arrivava da una famiglia di mercanti di seta e d'oro, che aveva due o tre generazioni alle spalle di commerci di alto livello, e è quella generazione che cerca di fare il salto ed entrare nel patriziato milanese. Ma il patriziato milanese è particolarmente chiuso e diciamo che tra le regole formali ci sono almeno tre generazioni di non ordinaria nobiltà, quindi lui è proprio fuori, perché siamo alla prima generazione di un mercante che cerca di entrare nel patriziato. Però c'è il fatto che in quel momento Milano è controllata da Vienna e quindi dagli Asburgo e ci sono opportunità, ci sono opportunità che durante il periodo spagnolo per esempio non c'erano. E quindi opportunità vuol dire connettersi con la corte di Vienna, rendersi visibile e avere del patronage da Vienna, essere diciamo supportati in questa strategia di ascesa sociale direttamente dall'imperatore o da qualcuno nella corte, da qualche cortigiano di alto livello. E questo sembra un po' quello che su cui Pietro investe, investe tantissimo al punto che rovinerà la famiglia, a causa degli investimenti che hanno a che fare con questa strategia. E questo è il padre di Agnesi, il padre Pietro Agnesi, che è una figura chiave perché altrimenti non si capirebbe come questa bambina ha questi tutori di altissimo livello, perché una delle cose su cui Pietro Agnesi punta, fa tante cose, compra dei feudi per avere il titolo che è attaccato al feudo, investe in posizioni per i suoi figli, nell'amministrazione e così via. Però, perché a quel tempo i certi lavori si compravano, proprio letteralmente. Si compravano anche i titoli immobiliari. Il problema è che non valevano niente per diventare patrizi milanesi, perché i titoli reali e imperiali lì non importavano. Comunque sì, è una cosa molto interessante. Tra le cose su cui investe è una grande biblioteca di famiglia e il talento di due figlie, una musicista, Maria Teresa, e questa bambina filosofa e poi matematica che è Maria Gaetana. Maria Teresa tra l'altro chiamata così per via dell'imperatrice che è nata da poco, quindi è ovvio anche lì la sua connessione. Maria Teresa, che diventerà musicista di un certo livello e tra le altre cose suonerà con Mozart quando Mozart passa a Milano bambino, che manda le sue opere a Vienna, perché siano... Vienna è un centro di consumo musicale di altissimo livello e sono sempre alla ricerca di nuove opere e cantate da rappresentare. E quindi è interessante anche vedere come anche Maria Teresa sta proprio esprimendo i propri talenti, ma in questa struttura di ricerca dell'attenzione di Vienna. E il libro di Agnesi sarà dedicato all'imperatrice Maria Teresa, perché a quel punto nel 1748 l'imperatrice Maria Teresa. E quale momento migliore per pubblicare il primo libro di matematica pubblicato da una donna, mentre c'è un'imperatrice, uno dei principi più potenti d'Europa è una donna. E quindi Agnesi ovviamente non sfugge questa coincidenza e la sottolinea nella sua introduzione, facendo una sorta di chiamata alle armi letterarie per tutte le donne, no? Che hanno qualcosa da esprimere e qualche talento da riuscire a manifestare. Quindi ecco, un altro... quindi la famiglia sicuramente è un punto chiave, particolarmente questa strategia. Pietro si sta anche appoggiando alla chiesa locale, alla chiesa di Milano, che è una diocesi particolarmente attiva in quegli anni sul fronte della riforma dell'educazione, per esempio. L'educazione anche delle bambine, le orsoline, ci sono vari tipi di istituzioni che gli arcivescovi di Milano supportano. La diocesi di Milano ovviamente è molto importante, è molto estesa e è un centro di sperimentazione, un centro di sperimentazione soprattutto nel tentativo di catturare elementi e diciamo assorbire elementi della nuova scienza in una chiave pedagogica e educativa che non sia in contrasto con, come dicevi tu, un cattolicesimo piuttosto tradizionale e non diciamo per nulla radicale o eterodosso. E questa è un po' la linea entro cui, e questo è un po' il mondo di Agnesi, il diciamo il circolo che si costruisce, il padre di Agnesi, sono intellettuali largamente uomini di chiesa connessi a questa spinta riformatrice che appunto io individuo come Illuminismo Cattolico, Cattolicesimo Illuminato, che sono categorie che sono state usate soprattutto in storia della religione, della liturgia e un po' di storia dell'arte anche, però ho cercato di portarle in storia della scienza per vedere quale può essere il senso di usare una categoria del genere, come dici tu, così estranea alla nostra percezione di cos'è l'illuminismo, no? E perché una figura come Agnesi, ma anche molte altre, non si riesce a inquadrare se non si usano queste lenti, che per noi sono molto strane, di questa congiunzione tra Cattolicesimo e Scienza Moderna nella prima metà del Settecento, in una chiave riformatrice che, e qui torniamo a Benedetto XIV, lui è un po' l'emblema poi di questo momento, di questo tentativo ormai diciamo quasi disperato della Chiesa Cattolica di tornare sulla linea diciamo primaria della ricerca e della cultura, no? In un'Europa che si sta muovendo molto velocemente e io leggo un po' questo Cattolicismo Illuminato come un tentativo di riaffermare una presenza della Chiesa, degli intellettuali ad essa più connessi, in quelli che sono le frontiere, no? Come dicevi tu, le frontiere della scienza al momento e il calcolo è una di quelle frontiere. Quindi, tanto per riassumere, la benevolenza nei confronti di Agnesi la interpreto soprattutto come connessa a questa generale benevolenza nei confronti delle scienze moderne, ovviamente entro certi limiti interpretativi e con delle, se vuoi, delle limitazioni che sono molto chiare, che però offrono anche opportunità. Sì, ecco, grazie Massimo, effettivamente a Roma c'è questo ambiente, diciamo, favorevole a una integrazione fra Cattolicesimo e Nuova Scienza e a Roma, a Bologna e poi a Roma, c'è Lambertini che è il Papa che riforma la Sapienza, che dà, insomma, spazio, diciamo così, a nuovi insegnamenti e che promuove anche, diciamo, imprese scientifiche come, non so, la bonifica, così, è Roma città. Ma c'è la pubblicazione dei Principia di Newton a Ginevra, no? Qui veramente tocchi, ho un soft spot per questa cosa perché appunto a Roma lavorano i due padri minimi, le sore Jacquier, due padri minimi che provengono da Vitry, le François e che si stabiliscono a Trinità dei Monti. La già citata Federica Favino ha scritto un bellissimo lavoro su questi due studiosi e questi due studiosi traducono i Principia, commentano i Principia di Newton, diciamo, in collaborazione con un calvinista di Ginevra che è Jean-Louis Calandrini, che proviene da una famiglia di emigrati lucchesi, perché nella Lucchesia c'è un'enclave, diciamo così, protestante, che alla fine del Cinquecento si spostano a Ginevra, si naturalizzano ginevrini e diventano una famiglia importante nella Repubblica calvinista ginevrina, dove c'è una forma, dove si instaura nel Settecento una forma di calvinismo moderato aperto alla cultura scientifica. E la Repubblica delle Lettere è fatta così, cioè i padri minimi cattolici, consultori del Sant'Uffizio, sono, diciamo, collaboratori con Jean-Louis Calandrini in un'impresa scientifica volta alla divulgazione del newtonianesimo. E' un altro asse di connessione tra Agnesi e Bassi, perché sono entrambe entusiaste newtoniane, no? Questo newtonianesimo ben voluto dalla Chiesa che lo, diciamo, lo incorpora nel suo curriculum, e in realtà queste donne sono newtoniane, sia Agnesi che Bassi hanno questi passaggi in cui esaltano Newton come, appunto, questa figura ormai cardine della scienza. Sì, sì, perché c'è una lettura, diciamo, di Newton come colui che ha proposto una visione della filosofia della natura compatibile con l'idea di un Deus Pantocrator, che Newton cita nello scoglio della seconda edizione dei Principia, che regge, diciamo così, la natura. E quindi una filosofia non meccanicistica, non, diciamo così, che può essere letta in chiave, diciamo, religiosa. E questo è un elemento importante, sì, di quello che viene chiamato the religious enlightenment. Tu hai studiato, diciamo, l'inurbinismo cattolico, ci sarebbe poi da fare, ma non abbiamo tempo, un discorso sui muratori, sull'influenza di muratori, su tutta questa cosa. Leggete il libro di Massimo per saperne di più. Ecco, mi sposterei ora su Paola, D'Arella. Professore, se è possibile, è appena arrivata una domanda e secondo me sarebbe interessante rispondere subito. Certo, Sofia, ci dica. La domanda è, come pensa che la prammatica sanzione che ha permesso a Maria Teresa di diventare imperatrice abbia influenzato l'ascesa delle donne nella scienza? Ah, sì, questa è un'ottima domanda. C'è un, in questo momento, un peroico del, poi della, dell'ascesa di Maria Teresa graduale, che poi diventa anche drammatica perché avviene in un momento di guerra e è fortemente contestata da altre potenze europee. la sua effettiva ascesa al trono è un momento che queste donne, a partire dalle sorelle Agnesi ad altre milanesi di cui ho letto qualcosa, salutano con, con enorme entusiasmo. E la sorella di Agnesi, Maria Teresa, scriverà un, un'opera, la Sofonisba, che è un tema piuttosto classico biblico, in cui c'è questa regina che alla fine del, del, di questa lotta contro i romani che stanno occupando il, il suo regno si suicida, no? Eh, come un atto, sempre visto, è stato presentato da vari autori in maniera un po' tragica, no? Quindi questa donna un po' sopraffatta dagli eventi. La maniera in cui Maria Teresa riscrive questa, questa opera è completamente diversa e cambia proprio anche la tecnica musicale, nel senso che le arie che lei scrive per questa donna sono arie marziali, cioè quelle che di solito cantano gli uomini. E, e sono, e questa donna si suicida, ma come un atto di deliberata sfida, no? Come dire, non mi avete sconfitto. E viene, e viene dedicato a Maria Teresa nel momento in cui arriva al trono. Quindi è visto come una celebrazione della, della donna forte, della donna che combatte e ottiene quello che vuole, anche se in realtà la storia è la storia poi di un suicidio, no? Però, eh, la, la carriera di Maria Teresa, eh, dall'inizio fino al, al suo, al suo successo finale, è sicuramente una cosa che queste donne stanno seguendo e usano come ispirazione. E poi, oltre che ispirazione, diventa anche praticamente, come stavo dicendo, una fonte di patronage molto importante. Grazie Massimo. Io adesso procederei così, darei la parola a Paola per vedere la seconda parte della carriera della Bassi. Che cosa fa la Bassi dopo questo 32? Si sposa, succedono una serie di cose interessanti. Poi passerei a Massimo per, per vedere la seconda parte della vita di Agnesi, dopo il 48, dopo la pubblicazione delle istituzioni. Quindi, prepariamoci per, diciamo, stiamo parlando da un'oretta per arrivare, diciamo, alla fase finale della vita di queste due filosofesse. Prego, Paolo. Filosofesse, grazie. Tante delle cose che ha detto Massimo mi hanno fatto naturalmente venire in mente molte questioni che riguardano anche Bassi. Ma sì, per rispondere alla tua domanda, che cosa succede? Secondo quello che ho letto in questi testi di Marta Cavazza e anche di Finland, la grande la grande novità nel caso di Bassi rispetto ad altre figure, inclusa quella di Elena Cornaro Piscopia, per esempio, è che Bassi riesce per tutto il resto della sua vita a rimanere in equilibrio tra il rispetto nei confronti di queste, di queste celebrazioni accademie, che lei accetta questo ruolo di Minerva, diciamo, e però allo stesso tempo si ritaglia un suo spazio originale di ricercatrice. Cioè Bassi dimostra fin da subito di avere intenzioni serie, di voler fare ricerca, di voler fare didattica, di non volersi limitare a vestire i panni del mostro in filosofia, dell'eccezione che serve ad attirare lustro alla città. Che cosa fa? Con l'aiuto di Lambertini, con l'aiuto del Papa, riesce a contrattare spazi dentro l'Accademia, nei confronti del Senato e lo fa con una grande intelligenza diplomatica, fino a che a un certo punto si rende conto che non può più restare nubile, ha bisogno di sposarsi e decide di sposare un collega. C'è una lettera molto interessante a un medico, Janus Plancus, che è un tizio spiritoso che tutti conosciamo e che le scrive, ma mi giunge voce, era un romagnolo, che lei si sia sposata e lei ha questa frase bellissima dove timidamente però con allo stesso tempo grande così lucidità e sicurezza dice sì, ho sposato questo collega che non solo è un bravo studioso ma anche mi ha assicurato che potrò continuare a proseguire nei miei studi ed è quello che lei riuscirà a fare con Giovanni Veratti. Quindi un ruolo che le viene attribuito, un ruolo politico diciamo, un ruolo così di rappresentanza, un ruolo sì di rappresentanza, lei riesce con fatica, impiegherà molti anni, molta fatica, molta corrispondenza, molta diplomazia, riesce a trasformare grazie a questa solida alleanza con Benedetto, col quale va d'accordo, ci sono degli scambi molto interessanti e con questa collaborazione con Veratti che sarà un suo collega assolutamente solidale, dal 49 in casa prezzano questo laboratorio che sarà attivo per i 30 anni successivi fino alla morte di Bassi e c'è questo caso a Bologna, era tradizione che il padre passasse al figlio la cattedra e in questo caso la cattedra di Laura Bassi passa al marito. Nel frattempo c'è un altro caso interessante, sempre sostenuto da Benedetto XIV, che è quella di Ana Morandi Manzolini, la ceroplastra straordinaria che vi mostravo prima, che però ha un'altra vicenda, nel senso che Morandi non ha una laurea, ha una formazione più di bottega diciamo, quindi è più interessante, una forma diversa di professionalità che eredita grazie a Benedetto XIV l'incarico del marito quando il marito morirà. Quindi Benedetto è veramente, come dire, illuminato in questo senso, capisce che di fronte a queste donne possono rompere antichissimi vincoli che legavano queste figure alla modestia, alla ritiratezza, eccetera. Certo, sono donne di un'intelligenza sociale, direi, particolare, nel senso che sanno veramente rimanere in equilibrio, nell'equilibrio giusto che consenta loro di non essere criticate. Sono ovviamente criticate, ci sono anche, Marta ha da qualche parte riporta stralci da qualche lettera o diari dove si insulta pesantemente Laura Bassi, naturalmente utilizzando quel gergo che continua a caratterizzare l'offesa alle donne naturalmente, quindi anche lei ne è vittima, però riescono, riescono in questa impresa. Purtroppo Di Bassi, che come vi dicevo è un'esperta, come diceva anche Nicolò, è un'esperta di, importa il newtonianismo a Bologna, cioè in una Bologna dove la didattica, dove la fisica era ancora insegnata in un modo così molto paludato, lei porta queste novità. Sappiamo che Algarotti la omaggia con questo ritratto dentro il suo famoso volume, e quindi c'è un riconoscimento da parte di uomini importanti come Algarotti, Volta, Volta, tantissimi studiosi. Però purtroppo rispetto appunto a, non so, a Melidu de Châtelet, la stessa Agnesi o altre donne che in questo periodo pubblicano, Di Bassi è rimasto pochissimo. Quando prima Massimo parlava dei materiali, dei documenti, ieri ero a un incontro con colleghi di mezza Europa che lavorano su queste donne a volte incredibili, persino la regina Charlotte con questa appassionata di botanica, cioè sono stati distrutti persino i suoi documenti, cioè delle donne sono stati spesso distrutti i documenti anche in casi eccezionali come questo di Bassi. Marta racconta, ha questo bellissimo articolo che è riproposto nel libro, dove racconta il laboratorio di Laura Bassi, elenca, ha trovato, trovò già molti anni fa l'elenco degli strumenti, quegli strumenti sono andati tutti perduti, degli scritti di Bassi ne sono rimasti pochissimi, di alcuni ci sono solamente i titoli. Abbiamo questa corrispondenza, come vi dicevo prima, che è stata inizialmente pubblicata negli anni, nel 60, poi Beate Ceraschi, che voglio citare perché insieme a Paula Findlen e a Marta Cavazza è una delle studiose che ha dato un contributo importante nella riscoperta di questa figura, ha ripubblicato altre lettere, incluse queste a Giovanni Bianchi, dove c'è questo riferimento al matrimonio. Quindi ci sono poche testimonianze. Ci sono molte testimonianze di suoi allievi, quindi della didattica di Bassi, della sua abilità nello sperimentare, della sua abilità nell'uso delle macchine, nella sua capacità di insegnare sia in italiano che in francese, perché aveva molti studenti dalla Spagna, da altri paesi europei. Su questo ci sono delle testimonianze interessanti e molto affettuose. Pare che fosse una persona alla mano che si prendesse cura dei suoi studenti con grande attenzione. Spallanzani, forse è stato uno dei suoi studenti più più importanti. Quindi anche nel caso, persino nel caso di Bassi, ci sono problemi nel reperimento così di materiale. Diciamo che sì, questa sua collaborazione con il marito è, da chi come me si occupa di storia poi dell'otto del novecento, anziché contemporanea, è molto interessante perché poi è una strategia classica delle donne che, escluse dalle istituzioni, riescono ad entrare dalla porta di servizio grazie a mariti, fratelli, compagni tra virgolette illuminati che lasciano lavorare nei loro laboratori. Questo potrà sembrare strano ma ha continuato a succedere fino a novecento inoltrato. In questo caso, come abbiamo detto, anche grazie all'interessamento attivo di un cardinale e poi di un padre. Di un cardinale, esatto. Marta Cavazza, questo capitolo a proposito dei contatti tra Agnesi e Bassi che sono mediati naturalmente da Prospero Lambertini, un capitolo dove ci spiega queste strategie di indipendenza, adesso Massimo ci racconterà quella di Agnesi, cioè quella di Bassi si gioca attraverso un compagno che l'aiuta a fare il suo mestiere, cioè lei vuole occuparsi di scienza e lo può fare perché ha un sostegno molto importante e Agnesi troverà un modo diverso per smarcarsi. Marta ha una frase da tutti questi padri cardinali che si occupano di queste donne, queste due figure riescono in modi molto diversi a smarcarsi, a trovare una loro autonomia, offrendo dei modelli, dei modelli nuovi. Bassi viene proprio citata da molte donne in Germania, in Francia, come un modello possibile. Quindi, no, stavi dicendo qualcosa? No, insomma, è molto interessante proprio il fatto che tu abbia parlato proprio di strategia, mi sembra molto. Sì, sono proprio strategie, non, come dire, a volte noi storiche, noi storici proiettiamo le nostre letture su questi personaggi del passato. Diciamo che in questi casi, almeno nel caso di Bassi, veramente si può parlare, come dice Paula Finden, già in questo vecchio articolo del 93, credo, di una carriera. Cioè, qui c'è veramente un lucido progetto di costruire una carriera per diventare un pari con i colleghi, nel caso di Bassi. Sì, dunque, grazie mille, Paola. Passerei al massimo. Ho ricevuto adesso una domanda a cui ho risposto, la domanda quindi è sparita, purtroppo perché è una domanda molto ben formulata sulla religiosità della Bassi. La domanda era... Professore, se vuole la leggo io. Brava, perché ho detto, ne parliamo subito. Allora, dalla finestra mi è sparita la domanda. Com'è la domanda? Allora, la domanda è, vorrei chiedere come conciliava Maria Gaetana Agnesi il proprio ruolo di donna protagonista delle scienze e della cultura con la fede cattolica. Era la sua una posizione insolita oppure era naturale che una donna potesse essere protagonista in campo culturale? Questa è un'ottima domanda perché ci porta, Massimo, adesso ci porta proprio sulla... cioè, è una domanda che riguarda tanto le istituzioni analitiche perché tu scrivi appunto del fatto che la religiosità della Bassi spiega il suo modo di fare matematica anche, che è stato criticato da alcuni storici della matematica, quindi che non hanno compreso quali erano le intenzioni di questa autrice dello scrivere il libro in un modo che è stato ritenuto insoddisfacente da alcuni storici della matematica. E poi ci porta alla fase finale della vita dell'Agnesi, ho detto della Bassi, forse già la mia... gli neuroni che non funzionano, quindi della vita dell'Agnesi, quindi ci porta sulla parte finale sulla quale sì, dobbiamo... ti pregherei di arrivare, insomma di fare un atterraggio sulla parte finale della vita dell'Agnesi. Certo, no, domanda infatti è arrivata proprio al momento giusto e mi vorrei anche collegare a quello che diceva Paola, nel senso è interessante vedere anche le similitudini e le differenze, no? I conti delle due vite Bassi Agnesi, nel senso che enfatizzano una serie di possibili strategie, che non ce n'è una che vale dappertutto, ma che bisogna adattarsi all'ambiente locale. Quello che hanno in comune queste donne è questo talento, questa capacità di lavorare su certi materiali e la capacità sociale di capire come ci deve muovere nel contesto in cui si trovano in maniera contingente. Quindi spostandosi a Milano, dove non c'è neanche un'università, ci sarebbe Pavia, però non è una cosa che per Agnesi è mai stata accessibile, a Pavia ci sono i Gesuiti che insegnano la matematica e questo sarebbe tutto un altro capitolo, ma Agnesi con i Gesuiti non ha dei grandi rapporti, non sono molto, non sono presenti, il Collegio di Brera sarebbe un centro di cultura molto importante, ma è interessante vedere come lei evita di mettersi in relazione con quegli studiosi, quindi questo è un altro punto. E cos'ha lei? La famiglia al Palazzo del Padre, dove fanno queste serate, queste conversazioni, che mi piace un po' distinguere dal Salon Parigino, che è un po' diverso come struttura, e in queste in queste serate Agnesi fa queste disputazioni pubbliche in cui sfida un professore di filosofia rinomato, o italiano o anche straniero, è praticamente la classica disputazione medievale in cui si difende una tesi o si attacca una tesi, i due opponenti devono arrivare alla vittoria. Quindi questa arte molto mascolina, molto in cui gli studenti maschi dei collegi Gesuiti erano, diventavano esperti, praticamente nel loro curriculum, Agnesi se ne appropria grazie ai suoi tutori privati. Questa cosa secondo me è uno dei motivi di fascinazione più grandi del fenomeno Agnesi, perché la gente va a Palazzo Agnesi, i visitatori francesi, tedeschi, o anche dalla Grecia, ci sono passaggi molto curiosi a Palazzo Agnesi negli anni in cui Maria Gaetana è attiva. Uno dei motivi secondo me è che lei sta giocando un ruolo maschile, un ruolo molto maschile, molto aggressivo. Poi finita la disputazione rientra in questa figura mite molto per cui tu che tutti di cui tutti esaltano la dolcezza e la femminilità ritirata. Quindi si vedono questi due set diversi di valori, i valori del mondo cattolico, la ritiratezza, saper stare al proprio posto, saper parlare. E poi c'è il momento in cui lei invece gioca il ruolo del filosofo, del filosofo che disputa. E questa cosa ancora ci parla un po' di di questo mettere insieme il suo mondo dei valori religiosi, perché Agnesi è una donna molto devota, è una donna che ha delle pratiche religiose molto intense, quotidiane. Lei ha un suo percorso di chiesa, di meditazione, di preghiera che su base giornaliera lei porta avanti, fin da quando è bambina. Quindi una cosa che c'era nelle biografie tradizionali era che a un certo punto, dopo aver pubblicato il suo libro, Agnesi si converte o ha una sorta di crisi religiosa e quindi abbandona gli studi e si dedica alla carità. Ecco, a me pare proprio che questo non sia avvenuto per nulla. Lei è già una donna molto devota e che si occupa di carità all'ospedale maggiore che è proprio di fianco a casa sua e poi anche in altri posti. Insegna, per esempio, ai bambini di strada, in una parrocchia vicina, mette in piedi. Ovviamente il modo in cui fare queste cose sono le confraternite, quindi lei aderisce a un numero di confraternite che fanno carità o educazione pubblica a vari livelli. Questo avvene già da quando lei è un adolescente. Quello che succede che cambia un po' le cose è la morte del padre. La morte del padre quattro anni dopo la pubblicazione del suo libro vuol dire che lei a quel punto è libera dall'impegno di doversi esibire in pubblico quasi settimanalmente per compiacere il padre. Loro avevano questa sorta di accordo che di cui si trova traccia in alcune lettere per cui lei dice guarda se mi continui a opprimere con queste richieste di esibirmi in pubblico, lei è qui più o meno a 18 anni, 20 anni, io mi faccio suora, voglio diventare suora. Questa cosa terrorizza il padre perché se perde Maria Gaetana ha perso diciamo il centro di attenzione del suo palazzo che quindi le concede molta libertà di fare quello che vuole, di studiare quello che vuole. Qui lei comincia a studiare matematica perché invece per ovviamente nell'ottica della conversazione sarebbe magari stato più interessante studiare altre scienze, le scienze elettriche, le scienze un po' più spettacolari che si potevano esibire e invece lei fa matematica, chiede di poter avere delle pratiche religiose molto intense e il padre la lascia andare dove vuole a fare quello che vuole e quindi questo accordo va avanti una decina d'anni, al momento in cui si pubblica il libro sono ancora in questa fase. La morte del padre vuol dire che lei si sente libera di potersi muovere e avendo pubblicato il libro che per lei è una sorta di obiettivo che poi conclude la sua fase di studio matematico perché il suo scopo, secondo le sue stesse dichiarazioni, era di fare qualcosa di utile al mondo scientifico, qualcosa che avrebbe dato un'opera, infatti il sottotitolo del libro è per la gioventù italiana, è un libro per la gioventù italiana, così che chiunque si voglia avvicinare, chiunque ovviamente tra virgolette, a queste nuove scienze lo possa fare tramite il suo libro. Il libro è pubblicato, muore il padre e lei si dedica completamente alle opere di carità e di riflessione teologica, perché c'è anche tutta una dimensione di Agnese che è di riflessione teologica di alto livello, per cui Agnese diviene anche consultrice dell'Arcivescovo di Milano su certe vicende teologiche, quindi sempre un po' nel background, non essendo ufficialmente, non ricoprendo ruoli ufficiali, ma ci sono queste corrispondenze per cui lei viene interpellata su una serie di punti delicati, per esempio la censura di un libro. Una consultrice, perdonami se uso una categoria un po' conservatrice, una consultrice attenta... Che non fa scappare le cose, mi immagino che mi riferisca al libro di Paolo Frisi. Sì, sì, per cui Frisi che ha fama di essere un po' un libertino, eccetera, non rientra nelle simpatie ecco della Agnese, che è molto intelligente anche nel capire, nel leggere dietro le righe i pericoli, diciamo, di uno slittamento dell'illuminismo verso l'illuminismo radicale, verso insomma... L'illuminismo del caffè degli anni sessanta di Pilano non è un illuminismo che Agnese trova congeniale. E Frisi, che non è neanche il più radicale degli esponenti, anzi, come dici tu, è molto bravo nell'impacchettare la sua fisica, Agnese capisce che questa cosa si sta muovendo in una direzione che non è quella dell'armonizzazione di scienza e fede che invece lei sta perseguendo. Ti do solo un esempio concreto di come lei vive nella sua vita, perché insomma è quello interessante, non tanto la teoria, ma come lei vive nella sua vita, nella sua esperienza quotidiana, l'armonizzazione di scienza e fede. Ed è che nello studio della matematica una delle cose c'è la questione della pace, che ovviamente lei cita spesso come la pace che regna nel mondo perfetto della matematica, ma c'è anche una cosa più interessante, secondo me, che ha a che fare col fatto che la matematica, soprattutto il calcolo infinitesimale, che secondo me è, secondo lei, è la cosa in quel momento più, che richiede più sforzo intellettuale, è uno strumento di affinamento dell'intelletto, proprio della facoltà superiore dell'essere umano. E questo affinamento dell'intelletto ha valore sia per l'attività filosofica e scientifica, ma anche per l'attività di meditazione spirituale. Lei che è così addentro a pratiche ascettiche e meditative, scriverà anche delle, che rimangono manoscritti, ma delle sorte di guide alla pratica ascettica meditativa, al distanziarsi dalla materialità per poter ascendere, no? Lei in matematica sta facendo delle cose, secondo lei la matematica ha delle proprietà di affinamento della capacità intellettiva che sono paragonabili e in realtà sono le stesse, che servono per poi poter essere un buon cattolico che sa meditare, che sa distaccarsi dalle cose quando si arriva alla preghiera e alla meditazione, a una serie di meditazioni a cui lei è particolarmente interessata. Quindi si congiungono in una maniera, secondo me, non superficiale, di un'armonizzazione di scienza e fede, a volte un po' ritorica, invece nel suo caso si congiungono proprio nella sua pratica vissuta del quotidiano. Questo potrebbe essere un modo di rispondere anche alla domanda. Quindi Bassi abbiamo visto, grazie a questo sodalizio con Veratti, tra l'altro un matrimonio ben riuscito da quel che sappiamo, anche sotto il profilo, diciamo, affettivo, e ha questi decenni di insegnamento nel suo laboratorio e poi le viene riconosciuta la cattedra di, diciamo, a pieni titoli la cattedra universitaria e un paio d'anni dopo muore. Muore, sì. Come muore Agnesi? Scusami, avevo tralasciato l'ultima parte della tua domanda. Agnesi, pubblica il libro, il libro a grande successo, viene tradotto, elogiato da varie accademie scientifiche europee. Lei però, particolarmente dopo la morte del padre, si distacca e si dedica ad altro. Tra questo altro poi diventerà la direzione del Piolbergo Tribuzio, che forse, appunto, soprattutto i milanesi non saranno sorpresi di scoprire, che nel Settecento è un centro di politica, è un posto in cui c'è molta corruzione, è un posto in cui essere uno che lavora nel Piolbergo Tribuzio vuol dire essenzialmente, non so come le chiamavano all'epoca, ma ci sono delle tangenti, perché fondamentalmente il Piolbergo Tribuzio è una grande istituzione che gestisce molte cose, tra cui anche il lavoro dei ricoverati. Quindi, di solito, il governatore mette una persona di fiducia perché è un luogo in cui si fa molto business, fondamentalmente, intorno al Piolbergo Tribuzio. E Agnesi arriva in questo ruolo, che ovviamente è molto distante dalla sua mentalità e dalla sua esperienza fino a quel punto, e comincia a fare le cose in una maniera diversa. Ci sono delle lettere molto interessanti in cui lei dice lo so che un sacco di gente mi vorrebbe fare fuori subito il più presto possibile, perché sto dando molto fastidio. Quindi si riconosce in questa Agnesi, diciamo, della seconda parte della sua vita, secondo me la determinazione dell'Agnesi giovane, convinta che vuole scrivere il libro, che vuole riuscire nella sua impresa scientifica, in questo caso si sta dedicando ad altro, ma si riconosce un po' la giovane Agnesi, in questa determinazione. Purtroppo non abbiamo quasi nulla di tutta questa fase finale in cui lei vive una vita molto, diciamo, isolata, isolata non interamente nel senso che è una vita in cui lei sta giocando un ruolo politico, lei scrive al governatore, scrive raccomandazioni per persone che ne hanno bisogno e la conoscono, quindi gioca un ruolo politico, ma vive in una sorta di piccola stanza al Piolbergo Tribuzio, abbandonato, diciamo, il palazzo di famiglia e morirà lì nel 1799, quindi una vita piuttosto lunga per quell'epoca, a causa di una polmonite in inverno e in quel momento c'è l'occupazione dell'esercito francese, le manifestazioni religiose per strada sono proibite perché c'è molta tensione tra i cittadini, le truppe occupanti, simboli religiosi possono essere causa di scontro e allora viene praticamente seppellita di notte, di nascosto in una fossa comune fuori Porta Romana e la sua tomba poi non verrà più, la sua sepoltura non verrà più identificata, tant'è vero che poi vengono messe delle farghe commemorative, però non c'è una tomba dominica. Quindi è una fine anche un po' simbolica, se vuoi, di un suo graduale scomparire, scomparire dalla scena pubblica rimane nella memoria, rimane anche in alcune ultime lettere che lei scrive negli anni 90, soprattutto scrive per difendere, per difendere il monastero che non deve essere soppresso, per difendere una figura che ha bisogno di aiuto. Queste ultime lettere sono anche molto significative. E questa è un po' la conclusione della vicenda. Grazie Massimo. Direi che praticamente abbiamo fatto una buona... avete fatto un ottimo lavoro e credo che abbiamo detto molto su queste due filosofesse. Forse l'ultima domanda che vorrei fare a Paola e poi semmai se ci sono delle altre domande dal pubblico le raccogliamo, l'ultima domanda Paola è questa. Tu sei una studiosa, una contemporaneista anche, studi i rapporti tra donna e scienza oggi. Insomma, studiare la Bassi, studiare l'Agnesi, studiare queste altre filosofesse, che significato ha per te? Che cosa ci puoi dire da un punto di vista? In fondo questo capitolo si chiude. Nell'Ottocento non ne abbiamo più queste filosofesse, no? Ecco, quindi se ci puoi dire qualcosa molto veramente... Certo. Diciamo sulla chiusura di questo momento che per motivi culturali molto instabili, contingenti, si crea un equilibrio fra interessi economici, interessi di promozione di una famiglia milanese, di Bologna come città, che portano a questa, diciamo, esibizione. Poi si rendono autonome, diciamo così, che si rendono autonome, trovano uno spazio nella Repubblica delle Lettere. Però questo momento si chiude e quindi tu puoi forse dirci, ti pregherei di dirci qualcosa appunto su questo chiede. Certo. Forse mi soffermo 30 secondi ancora su Bassi perché è questa sua abilità politica, come quella che richiamava ora Massimo a proposito di Agnesi, importante. Cioè Bassi paga il suo successo personale anche in termini di rinuncia a citare altre donne, a sostenere altre donne pubblicamente. Ci sono solamente due punti nella sua corrispondenza. Una, come dicevo prima, è in una lettera di ringraziamento e di elogio ad Agnesi per il suo libro. L'altro sinceramente non lo ricordo, però le stesse figlie di Bassi, Bassi e Verati avranno insieme otto figli, cinque sopravvivono. Quindi non è un solo adalizio, solamente professionale. È veramente un matrimonio a tutti gli effetti. anche le stesse figlie non studieranno e non ci sono, come dire, delle testimonianze del fatto che Bassi abbia fatto nulla. Forse non se lo poteva proprio permettere. Diciamo che non ci sono scritte. A me piace pensare che in realtà tra lei e Anna Morandi Manzolini, per esempio, ci siano stati dei contati. È impossibile che non ci siano stati attraverso Benedetto XIV. E anche il caso di Maria dalle Donne, che poi si laurea dopo, 1799. Ma il caso di Clotilde Tambroni, per me è ancora più incredibile. Io mi sono appassionata proprio in questi mesi a questa figura, leggendo questi saggi di Marta Cavazza, sulla quale non c'è molto. Clotilde Tambroni ottiene una cattedra grazie a un gesuita, che insegnava a Bologna, era un esperto di greco, lei insegna lingua e letteratura greca. Finisce dentro, naturalmente, tutte le vicende dei francesi, poi di nuovo i russi, poi di nuovo i francesi, quindi perde la cattedra, perché non accetta di giurare fedeltà e di giurare odio nei confronti della sicurezza, eccetera. Questa donna cerca di, invece, al contrario di Bassi, questa donna si permette di parlare in un discorso pubblico, una cosa, credo, assolutamente unica nella storia della cultura occidentale, le danno la possibilità, nel 1806, di tenere la prolusione accademica. E in questa prolusione accademica, lei intreccia due temi. Uno è quello del dialogo tra le lettere e le scienze, stanno per, naturalmente, farle saltare la cattedra, che di fatto, infatti, poi lei perde. E l'altro è questo discorso dell'importanza di intrecciare i saperi, perché nei secoli floridi, scienza e lettere dialogano, perché è un tema classico dell'illuminismo, che però lei presenta in un modo assolutamente intelligente, legandolo a figure femminili, che dai Pazia fino a Bassi e a se stessa, e alla giovane dalle donne, hanno saputo coltivare. Quindi, è come ci fosse, nel caso di questa donna, che in realtà chiude questa stagione, il coraggio di dire, ok, io sto per saltare, la mia cattedra di greco sta per saltare, però questa mia giovane amica, molto più giovane di lei, è laureata in medicina, è anche un abile retore, sa unire le capacità scientifiche con quelle umanistiche, diremmo noi oggi, e si ha quasi l'impressione che la voglia, come dire, spingere nel tentativo di farle avere un ruolo che non avrà mai, dalle donne sarà direttrice di questa scuola per ostetriche, che terranno accuratamente fuori dall'università. La cosa divertente a proposito di politica, perché naturalmente la politica è al centro di tutte queste vicende, sempre, è che la supercattolica Tambroni, che aveva rifiutato di giurare odio agli aristocratici, eccetera, e se ne va esule in Spagna per qualche anno per non subire i napoleonici, grida viva Napoleone alla fine di questo discorso. E che io ho trovato splendida questa cosa, perché l'ho letta, ma qui c'è tutto il mio costruzionismo, diciamo, di storica sociologa delle scienziate di oggi, è come se ci fosse il desiderio di mettersi alla pari con questo uditorio di colleghi uomini che ha davanti, tipicamente cinici, in questo tipo di pratiche accademico-politiche e quindi tentasse il tutto per tutto. Naturalmente non ci riesce né lei, né Maria dalle donne. Quindi questo finisce. La storia delle Bologna, paradiso delle donne, come viene chiamato, Marta cita questo documento, si chiude con questo discorso praticamente di Crotilde Tambroni. Per dire, Maria Vittoria Delfinidosi tenta di avere la laurea in diritto, controllavo ora, la donna che riuscirà finalmente a Bologna ad avere la laurea in giurisprudenza è Carolina Pigorini nel 1907. Dopo Maria dalle donne che si laurea in medicina, dobbiamo aspettare una giovane di Odessa, Ernestina Paper, che si laurea nel 1877. A Bologna passeranno ancora molti anni. La donna che si laureerà in medicina per prima, dopo dalle donne, è Giuseppina Cattani che si laurea nel 1884. Quindi, come dire, un ritorno all'ordine, un ritorno all'ordine molto interessante, che aiuta a capire come queste donne, anche Crotilde Tambroni, avessero capito come quelle pratiche che noi chiamiamo di networking fossero fondamentali per rimanere a galla, per continuare ad ottenere un posto. Il problema è che in queste pratiche di networking i numeri contano e le donne sono sempre state molto poche. Ho trovato dei casi interessantissimi, per esempio, nella biologia evoluzionistica degli anni 90, americane e inglesi, studiose, che adesso di cui non sto nemmeno citare i nomi, comunque sono molto note, tipo Annie Fausto Sterling oppure Linda Burke, cioè tentano cose analoge a quelle che fa Tambroni nel 1806, tentano di legare la seconda onda del femminismo con la prima onda del femminismo e parlano, per esempio, di un darwinismo femminista. Quindi queste vecchie storie del Settecento come dire, svelano strategie politico-accademiche che sono anche scientifiche, perché nel momento in cui Tambroni tenta di ricostruire questa genealogia, anche Marta parla di questo discorso, anche se così a passare nell'ambito di altri discorsi, queste genealogie servono ad intrecciarsi con discorsi culturali relativi alla necessità di fare in modo che le scienze e le lettere non siano viste in antagonismo, cioè non siano viste come nemiche, ma come alleate. E poi, certamente, qui c'è la tesi di Nobel, che è un autore che io amo molto, David Nobel, uno storico della tecnologia che ha scritto questo libro controverso, Un mondo senza donne, una storia di lunghissimo periodo che mostra come le donne entrano ed escono dalle istituzioni a seconda di questi fenomeni politico-sociali e quindi questo è molto interessante per studiare le dinamiche dei gruppi, per studiare anche adesso, per esempio, siamo in un sorpasso oramai da 25-30 anni delle laureate sui laureati, però comunque le donne continuano ad avere delle enormi difficoltà dentro le istituzioni proprio perché sono necessarie strategie alleanze sulle quali sono discorsi molto complicati. Diciamo che sia c'è un certo tipo di come dire di mancata professionalità probabilmente. Le donne sono entrate nelle professioni scientifiche di fatto definitivamente solo nel Novecento e mentre invece gli uomini ci sono diciamo almeno dai tempi di bacone quindi c'è una consapevolezza dell'importanza di questo networking che ha 400-500 secoli nel caso delle donne la strategia è solamente di 100 anni e poi i gruppi hanno culture diverse e il gruppo di questo strano attore sociale le donne come dimostrano dati quantitativi interessantissimi usciti l'anno scorso su Pines cioè profili di un milione e mezzo di scienziate e di scienziati mostrano che donne e uomini ormai producono in modo assolutamente comparabile sia nel numero sia nella qualità dei papers però c'è un momento in cui arrivate a un certo punto della carriera quando si tratta di fare il salto le donne lasciano perché spesso dichiarano di non reggere quel tipo di pressione che tutte le nostre donne di cui abbiamo parlato oggi inclusa Clatilde Tambroni che verrà licenziata invece hanno saputo reggere grazie a degli alleati straordinari purtroppo non succede spesso di avere come alleato un papa un papa come benedetto quattordicesimo quindi nel lungo periodo queste storie sono veramente utilissime perché da un lato sono confortanti nel senso che confermano come si tratti di un'emarginazione nel caso delle donne dettata veramente da non so come dire da culture da culture antropologiche che facciamo fatica a modificare dall'altro invece come sia possibile come per esempio nel caso di queste femministe queste biologhe evoluzioniste degli anni 90 questo networking abbia funzionato sia per la carriera sia dentro il laboratorio sono ricerche molto interessanti che a me piace pensare che approdino ai risultati recenti di questa scienza che ci aiuta a capire toccare con mano vedere quanto questi confini tra natura e cultura siano inesistenti siano un'invenzione sicuramente Paola il tuo intervento ovviamente è un intervento scusate mi sono lasciata no no è un intervento molto importante che desideravo veramente concludere diciamo questo incontro con questo diciamo finestra sul contemporaneo sui problemi che abbiamo oggi e soprattutto qui in Italia per esempio nell'avviare le donne a una carriera scientifica e quindi effettivamente c'è una grossa difficoltà comunque io a questo punto credo che farei questo chiederei a Sofia se ci sono ancora domande da parte del pubblico per il momento non ci sono domande ma potrebbero arrivare però insomma stiamo già parlando da un'ora e mezzo e quindi io vorrei appunto in contatto Zoom con Massimo e Paola una volta alla settimana almeno per poter chiacchierare di queste cose e imparare da questi due studiosi che ringrazio nuovamente cioè grazie mille Paola grazie a te Nicola per questi bellissimi interventi e bisogna che sì che rinnovi il ringraziamento questi eventi Book City vive c'è un sacco di gente che rende questo questo evento possibile quindi grazie a tutto lo staff di Book City grazie a Nicola Miscigna che è stato il regista di questa di questa nostro di questo nostro incontro grazie ancora alla nostra studentessa volontaria Sofia Carugati e e e quindi a questo punto credo che possiamo congedarci dal dal pubblico e e cosa fare cosa fare fare questo adesso leggere e comprare questi due bellissimi libri di Massimo Mazzotti Maria Gaetana Agnesi il suo mondo di Marta Cavazza che abbiamo citato più volte grande studiosa Laura Bassi donne genere scienza nell'Italia del Settecento questi sono i riferimenti bibliografici mi permetto così di suggerire anche un video su Laura Bassi Laura Bassi una vita straordinaria potete diciamo cercarlo su Google e è un diciamo è un video scientificamente molto ben fatto una quarantina cinquantina di minuti con la regia di Negroni di Enza Negroni c'è un'attrice e il consulente scientifico è Marta Cavazza quindi è una sicurezza questa ho trovato poi su su Google è stata una mia studentessa che è di Montevecchia in in Brianza dove Pietro Agnesi aveva acquistato una villa e dove Maria Gaetana Agnesi è molto conosciuta e c'è uno spettacolo teatrale che diciamo secondo me è un'occasione per diciamo avvicinarsi a Maria Gaetana Agnesi un po' diversa si sentono anche delle delle musiche di 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 Maria Teresa adesso io ho smesso di condividere lo schermo Sofia no ancora lo sto condividendo no 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 non lo sta più condividendo lo sto più condividendo quindi posso posso congedarmi ringraziando ancora tutti soprattutto diciamo i relatori Paola e Massimo speriamo di vederci presto adesso il regista chiude tutto e ci e ci butta fuori da questa scatola virtuale da questo seminario vitale e quindi chiedo appunto al regista di interrompere grazie è stato un piacere grazie grazie a voi grazie ciao grazie Sofia grazie grazie a tutti